Grazie ai traguardi che la ricerca finora ha raggiunto, si può sopravvivere a una diagnosi. Io non avevo figli quando mi sono ammalata. La malattia ha interrotto questo sogno che io poi sono riuscita a riprendermi grazie alla ricerca. Sostieni i ricercatori di Fondazione Umberto Veronesi, impegnati a trovare nuove cure contro il tumore al seno. La ricerca ha bisogno di te. Dona ora su fondazioneveronesi.it